Ciao a tutti, finalmente spero di essere riuscito a sistemare il microfono dentro il casco e oggi andremo a fare il primo giro, diciamo in enduro ufficiale con questa moto sono già andato in strada e ho già fatto qualche sterratino giusto per prenderci un po' la mano ora diciamo che oggi è la prima enduro ufficiale mi sto abituando a impennare anche con questa, all'inizio quando ho provato il 530 riuscivo a tenerlo abbastanza questa qua invece è proprio il zero comunque nel mentre che aspetto il verde vi annuncio già che in questi giorni dovrò mettere a posto il garage quindi sarò inattivo per 1-2 giorni ma appunto tra qualche giorno farò uscire alcuni video inerenti a questa moto non vi anticipo nulla e lo vedrete sul canale tra un po' di giorni ovviamente dopo questi video che voglio fare, voglio fare poi anche un video di comparazione tra questa e il 530 eccoli qua eccoli qua spero solo che questi due non mi portino in posti bastardi comunque mi piace molto di più come guida rispetto al 530 è molto più gestibile a parte il peso ridotto ma anche come motore mi piace un sacco di più ah i bassi l'ammo sta moto l'amo sta moto vado a sola minchia sono già troppo stanco saliamo ancora questo pezzo poi no perché non sono più abituato quindi le braccia le gambe ho già il fietone vabbè faccio comunque mi trovo benissimo è paurosa è leggerissima i bassi adesso con l'altra era impossibile andarci di colpi di frizione così con i bassi con questa qua è una puttanata ok ho già rischiato troppo raga riposiamoci un attimo vi prego porca troia bellissima ma godi con sta moto madonna sono già troppo stanco sali cominciamo sali sali in scosa che cazzo vuoi cominci ad andare tu arrivo dietro che iniziava a tirar due marce che voleva tirare ho detto provi a tirar due marce anche a me va bene vado cosa vuoi? cosa vuoi? no ti ho visto che è ripartito secco e ho detto ah ok sto godendo come un porco sto godendo come un porco ma che cazzo minchia ho le dita che mi fa male la coppia del 300 c'è un pezzo che scivola perché passi sul ruscello dipende da come te la senti tu io ho ancora 6 litri la voglia allora andiamo si ricomincia il giro enduro eh beh prima o poi doveva capitare voilà dai però c'ero quasi riuscito che palle minchia sto cazzo di minimo chiedi che destra la sua la curva a sinistra dove è partito lui ah ok se c'è una losa non fai tenermi a sinistra eh tenermi a sinistra a destra a destra ok woohoo woohoo A presto. bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto adesso sto portando a casa dopo vedere molte le moto e come promesso ci ritroviamo tra qualche giorno per nuovi video ciao a tutti ciao a tutti